clarettina sexy fa le brutte cose su twitter clarettina sexy fa le brutte cose su twitter io non so com'è non so com'è ma il fatto è che navigando su twitter trovo le cose più brutte di questo mondo tempio fa avevo trovato scusatemi eh avevo trovato un sito twitter che twitter è un canale nobile eh quando twitter è nato c'erano principe e principesse su twitter beh qualche tempo fa ho fatto il video intitolato italian italian gigolo andatesta di cazzo perché navigando su twitter avevo trovato un profilo twitter dove invece di un volto c'era un cazzo così capito e ci ho fatto il video intitolato italian italian gigolo andatesta di cazzo e c'è ancora eh c'è ancora c'è ancora c'è ancora non so perché ma io questi 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 profili twitter li trovo tutto tutto in ambito siciliano mi perdonino i siciliani non so perché non so perché quel certo profilo twitter canale nobile twitter quel certo profilo twitter dove invece di un volto c'era un cazzo era un profilo di un twitter siciliano adesso sempre navigando su twitter in ambito siciliano perché mi sto preparando a tornare in sicilia a palermo per tenere la mia conferenza sul materiale 15 aprile prossimo 15 aprile prossimo e beh navigo un po' di qua un po' di là e che ti trovo che ti trovo ti trovo ti trovo la clarettina un profilo clarettina sexy sempre in ambito siciliano palermitano una bella ragazza se voi scorrete lo scorrete il profilo ci trovate di tutto e di più altro che andare su youtube porno 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 io porno ma non trovate tutto trovate pure una ragazza che dove c'è scritto dopo una giornata di lavoro e si dovrebbe terminare così e c'era una ragazza che ne sistemava quattro o cinque cinque quattro o cinque ne sistemava tutti insieme beh cari amici allora ecco qua io non so che fine farà questa bella clarettina sexy che fa le brutte cose su twitter non lo so magari se ne frega di questo mio video come ha fatto quell'altro quella come ha fatto quell'altro quell'altro che c'è ancora c'è ancora vabbè cari amici date voi un'occhiata a quello che vi metto perché perché il profilo di clarettina sexy con con annessi e connessi ve li metto nel riassunto di questo video capito addio come si è modernizzato modernizzato twitter che quando nacque era era come si dice il social dei principi e delle principesse ok cari amici tanti cari saluti da serafino massoni ma non voglio far dimenticarmi di farvi vedere quest'opera è questa la faremo vedere anche a clarettina sexy clarettina sexy che fa le brutte cose su twitter tanti cari saluti da serafino massoni